Adesso provo per esempio a usare gli accordi, i primi tre accordi, quelli lì famosi di Ecco, adesso Tu vuoi la sequenza, dico Un do che dura Un do che dura quattro Un fa che dura quattro Un sol che dura quattro E provo a inventare con la destra la melodia che usi solo le note della quattro Sì, vediamo Voglio modare Stai facendo un jazzista lui, stai aumentando Stai utilizzando un jazzista lui, stai aumentando un jazzista lui, stai aumentando un jazzista lui, stai aumentando una storia di più